Una grande casa come il mondo, promotore di processi, comunità, un senso di appartenenza, una città in cambiamento, luogo di coesione, un paese di possibilità, uno scrigno ricco di tesoro, una piccola città a misura d'uomo, un territorio da scoprire, il foglio bianco su cui si disegna, protagonismo, creatività, precarietà, energia, energia per il futuro, una fascia che rappresenta, l'innovazione, il cambiamento, il futuro, persone, personalità, sono il disegno che comparo nei due puntini, l'ossigeno del domani, risorse, io dico relazione, forza, scambio, la bravura del singolo, che fa sempre squadra, un anello di congiunzione fra le varie realtà, luogo di incontro e di scambio, sinergia, percorsi connessi, collaborazione, voglia di pensare progetti insieme, prima ancora che farli insieme. Grazie a tutti. Una penna con cui unire i puntini, un evidenziatore che colora il disegno e uno schedario in cui mettere i disegni. Accompagnamento alla scelta. Competenza, accoglienza e lavoro. Valorizzazione territoriale e creativa. Yeah è musica, creatività, divertimento. Cultura e solidarietà. Associazione, lealtà, impegno e io aggiungo anche divertimento. Partecipazione, giovani, idea e per finire il progetto. Promuovere una comunità competente. Competente. Grazie a tutti.